Cari amici dell'acquario, non ce la faccio ad attendere perché ho scoperto un bellissimo gioco che adesso voglio presentarvi. Con questo gioco potete presentarvi come dei maghi ai vostri amici. Vedrete che è semplice, io ho scritto già tutto qui e vediamo se funziona. Allora, vedete che sul tavolo ho preparato delle carte da gioco, un gioco strano che ho trovato, ha le carte con i numeri da 1 a 9. In realtà non occorrono le carte ma per mostrarvi che così si può lavorare con qualunque numero io prendo queste carte. Allora, il gioco funziona così, qua ci sono tutte le istruzioni e adesso una alla volta le leggeremo, faremo quello che c'è scritto. Allora, io ho mescolato le carte, non le guardo, ci sono i numeri dicevamo da 1 a 9, si può usare anche lo 0, ma insomma per praticità ho tolto. Allora, scrivi un numero di tre cifre diverse, eccoci. Allora, io sceglierò qua tre carte diverse così vediamo che è un numero a caso, 692. 692, lo scrivo qui. Ecco, avrei potuto prendere anche 478, lo facciamo anche con 478 così vedete due casi. Ok? Seguiamo le istruzioni. Durante il gioco i numeri di due cifre diventeranno di tre cifre con uno 0 davanti. Quindi se dovesse capitarci un 42, questo sarà il numero 0, 42, ecco perché lavoreremo sempre con numeri di tre cifre. Seguiamo avanti le istruzioni. Scrivi lo stesso numero ma con le cifre spostate. La prima cifra e la terza si sono scambiate. Ah, quindi dal fondo. Leggiamo con un'istruzione. Scrivilo sopra o sotto il numero precedente in modo che il maggiore sia sopra. Allora, qui scriveremo 874 sopra e qui scriveremo 296 sotto. Va bene? Quindi il numero letto dal fondo in pratica. Invece che 692, 296. Esegui la sottrazione fra i due numeri, quindi il maggiore meno il minore. 6 per andare al 12 è 6, riporto 1, 9 è diventato 10, 10 per andare al 19 è 9, riporto 1, 3 è 3. E qui 8 per andare al 14, 9 è 10, 11 è 12, 3 è 14. Ah, combinazione, va bene, qua viene 6 uguale. Va bene, qua ho già fatto il conto 3,96. Però potrebbero venire anche altri numeri. In combinazione ci sono venuti due numeri uguali. Se avessimo scelto 473, facciamo 473, ecco così, giusto per far vedere che ci sono 473, 374. Qui viene 99, che lo facciamo diventare 0,99. Ecco, giusto per far vedere. Scrivi il risultato ottenuto. Va bene, l'abbiamo ottenuto. Nel primo caso ci è venuto 3,96. Nel secondo 0,99. Scrivi sotto lo stesso numero, ma con le cifre spostate, come prima. Ok, il numero al contrario. 9,90, 0,99 diventa 9,90. E 3,96 diventa 693. Ok. Somma gli ultimi due numeri scritti. Ok, per chi ha fatto questo gioco qui, viene 9. 9,9, 18, riporto 1. 4,6, 10. 9,0 fa 9. 9,9 fa 18, riporto 1. 1,9, 10. Usiamo le istruzioni. Magia, hai ottenuto 1089. Infatti ci è venuto in entrambi i casi 1089. Eccolo qua. Fatelo ai vostri amici. Fate scegliere loro tre cifre a caso, cioè un numero di tre cifre. E vedrete che funziona. Va bene, dopo se uno ha voglia e pazienza può anche cercare di capire perché funziona. Però io vi assicuro che ho provato con tutti i numeri e funziona. Eccoci. Allora vi lascio con questo giochino. Vi auguro buon divertimento. Facciamo un'ultima inquadratura dopo che mi avete visto a me. Facciamo un'ultima inquadratura alle istruzioni. Così potete fissarle, stamparle e guardarle con calma. E sappiate che questo succede solo alle persone dotate di poteri paranormali. e a noi, amici di Genova, dell'Aquario di Genova, che sappiamo questo trucchetto. Bene, non raccontate a nessuno il segreto. Ciao, ciao.